ciao a tutti questo è il pacchetto che mi è arrivato oggi la guardiamo insieme sì io ancora non ho guardato prodotto per prodotto dato solo un'occhiata di insieme e devo dire che già molte cose mi piacciono ma andiamo a vedere questi erano in omaggio con l'ordine no vabbè sono bellissimi cominciamo con questa che è una maschera per il viso la confezione bellissima ricorda molto le confezioni della Kiko ma non è Kiko all'interno si presenta in questo modo no vabbè guardate che sciccheria è in ceramica bianca con il tappo in simil sughero ma è plastica e all'interno si presenta in questo modo super sciccosa questo invece è un siero per il viso con all'interno vitamina c e ovviamente ha il dosatore per le gocce questo adesso magari si è così presenta in questo modo la particolarità di questo prodotto è che è bifasico ora non so se si esce a vedere ma nella parte alta è più scuro e nella parte alta è più bassa ci sono due componenti e questo invece è un esfoliante per il viso con all'interno ananas macciati limone papaya cetriolo per tutti i tipi di pelle questo è il pack secondario e adesso e all'interno si presenta in questo modo in forma liquida con un pratico dosatore a pressione ora magari con una mano sola risulta un po difficile va premuta la parte alta qui ed esce la giusta quantità questa invece è una crema per il viso molto idratante e si presenta in un flaconcino da 30 ml ecco come il formato del fondotinta questo invece è un una crema contorno occhi della linea detox in un formato un po diverso dal solito siamo comunque abituati a trovare le creme per i contorno occhi in formato tubetto e questo è il pack principale una jarra di vetro da 20 ml questo prodotto è un balsamo struccante sempre della linea detox questo è il pack secondario e adesso vi mostro come si presenta all'interno all'interno si presenta in questo modo è un prodotto che contiene olio di mandorla olio di argan estratto di menta spirulina tè verde serve a pulire il viso mentre questo è un primer fluido per il viso va applicato sulla pelle del viso prima di applicare comunque il consueto makeup rende la pelle più liscia e minimizza i pori e si presenta in questo modo con il pratico contagocce in un vasetto di vetro da 30 ml questo è l'ultimo prodotto dell'ordine di oggi un siero per il viso che va usato dopo aver effettuato una pulizia del viso profonda e quindi va a riequilibrare stava madì mi ha interrotto un attimo una telefonata comunque questo va a riequilibrare la pelle dopo aver effettuato una pulizia del viso un po più profonda che comunque consigliata almeno una volta a settimana bene questo era l'ultimo prodotto dell'ordine vabbè un ordine è veramente bellissimo non vedo l'ora di provare tutto soprattutto anche questi pennelli che sono di una morbidezza senza pari non saranno quelli della mac però voglio dire questo era l'ordine arrivato oggi io vi saluto vi do appuntamento al prossimo contenuto ciao a tutti da così ciao